Sulla bianchezza dei muri e del polverone, girando queste campagne, di continuo vi punge l'occhio una forma nera, posata in terra o appoggiata presso un uscio. La vedete di lontano, la rigida geometria dell'oggetto acuisce quella nerezza. Si tratta di casse da morto, molte casse per molti morti. C'è la sua buona ragione in tutto quell'odore di acido fenico. L'ultimo ricordo di Xochilmico l'ho avuto da un trasporto funebre, formato di tre persone, che a passo svelto traversava una piazza. Era il funerale di un bambino. Tinta di bianco la cassetta e, piantato in mezzo al coperchio, un gran pennacchio di fiori bianchi. Due giovanotti, uno da capo e uno da piedi, recavano sulla testa il lieve peso. E fra i due, proprio col capo sotto al feretro, un bambino. Pareva un fregio decorativo stilizzato nella mossa a compasso delle sei gambe e con le tre figure di profilo schiacciate contro il paesaggio. C'era un che di allegro e prestante in quella corsa e si sarebbe detto fosse il morticino stesso sceso a pigliar qualche cosa che s'erano scordati di mettere per il suo viatico. Un candito, un cavalluccio di coccio, un bambolino. Dava ancora un'occhiata alla piazza dove aveva fatto tanti balocchi e poi sarebbe saltato nella cassetta e partito sul sereo.